Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Prima News Focus, il nostro rotocalco di informazione quotidiana. Nella puntata di oggi per questi 20 minuti che passeremo insieme voglio portare nelle vostre case il contributo di un assessore del capoluogo del territorio che detiene delle deleghe importanti, tante deleghe importanti e infatti andremo tra pochissimo ad analizzare quanti progetti, quante novità, quante iniziative saranno in capo all'ospite che adesso vado a presentarvi. Sto parlando di Paolo Chiavarino, assessore al commercio e mercati e molto altro della città di Torino. Grazie per essere qui con me. Grazie, buongiorno a lei, a tutte le telespettatrici e gli telespettatori. Allora, assessore, io ho iniziato subito così, dicendo che lei ha ovviamente in mano delle deleghe importanti, impegnative, perché si tratta proprio della gestione e dell'organizzazione di quello che è il tessuto della città di Torino, quindi commercio, attività, mercati. Torino è la città dei mercati. Allora, raccontiamo, visto che nei nostri spazi abbiamo dato sempre modo agli assessori di raccontarci un po' qual è la loro visione e quali sono effettivamente i capitoli in cui maggiormente si sente coinvolto e sente di dover intervenire in questi anni della sua amministrazione. Intanto dobbiamo partire da un presupposto e un'analisi della situazione. Noi abbiamo vissuto momenti terribili per la pandemia che si è battuta mondialmente e poi, ahimè, anche per questa brutta guerra che speriamo possa cessare quanto prima, evidentemente. E quindi questo è stato un primo aspetto che ha dato un colpo determinante in negativo al commercio, mettendolo letteralmente in ginocchio. Già vi era un calo dei consumi, già vi era una situazione tendenzialmente critica, questo ha chiaramente aggravato una situazione dal punto di vista commerciale. Invece da un altro lato, da un altro canto, Torino è una città che sta riscoprendo la sua vocazione turistico, culturale e commerciale. Quindi anche alcuni provvedimenti che sono stati presi, alcune iniziative, alcuni progetti che abbiamo messo in campo, banalmente quello legato al fatto pandemico che si riferisce per esempio alla strutturazione dei Deor cittadini in una logica in allora di presidio di sicurezza, di salute, oltre che presidio del territorio, successivamente inteso come un momento di loisir, di piacere e di disponibilità da dare ai cittadini torinesi e ai turisti, con tutti gli aspetti che siamo consci, che ne sono derivati, quindi l'occupazione del suolo pubblico, in alcuni casi attraverso avere i propri abbrobri, a certe esagerazioni, consci di questo e consci anche del fatto che porremmo rimedio controllando sempre di più maggiormente con degli standard prescrittivi ben precisi. Se è il caso, combineremo anche forti sanzioni, in una logica però di buon senso, in una logica equilibrata. Quindi una città che da un lato ha patito dal punto di vista commerciale questo aspetto pandemico, d'altro canto che invece ha riscoperto attraverso tanti eventi, Eurovision Song Contest, le ATP Final di Tennis e tanti tanti altri eventi, soltanto l'anno scorso parliamo di qualcosa come, per quel che mi concerne, oltre 400 eventi tra feste di via, che sono chiaramente eventi minori e poi salendo vari saloni enogastronomici, tra cui Terra Madre e altri ancora di altra natura, comunque abbiamo superato i 400 eventi. Complessivamente l'intera città ha superato di gran lunga i 600 eventi, una cosa inimmaginabile. Ecco, io dicevo prima che il suo è anche un assessorato complicato, difficile, perché ovviamente c'è il rovescio della medaglia. Da una parte sollecitare il commercio, fare in modo che aprano attività, che abbiano modo di lavorare con gli eventi, dall'altra anche quello che vuol dire i cittadini, quindi la loro sopportazione, che a volte credo non sia così alta, quindi riuscire a misurare entrambe le cose. Parlo anche dell'aspetto della Movida, immagino che quello sia anche uno dei capitoli maggiormente sotto controllo, in questo momento è sotto i riflettori. Sicuramente lì dobbiamo contemperare, coniugare l'esigenza e del cittadino, dei ragazzi di divertirsi, sanamente divertirsi, aggiungo io, degli esercenti di legittimamente lavorare e dei residenti soprattutto di stra-legittimamente dormire e vivere in salute. Quindi queste tre esigenze non è facile molte volte coniugarle, contemperarle come dicevo prima. Comunque abbiamo dato vita intanto delle iniziative che ha atte anche in questo caso a controllare la cosiddetta mala Movida, la cattiva Movida, e quindi con un'azione coordinata con le forze dell'ordine. Più volte al COSP, che è il Comitato di Sicurezza e Ordine Pubblico, si è focalizzato a questo aspetto. Grande collaborazione con Prefettura e Questura, iniziative in quelle aree tipo Vanchiglia, Via Balbo, Via Guastalla, laddove la criminalità si mescolava e si mescola con la Movida dei giovani. Nel contempo altre realtà che sono magari meno caratterizzate da criminalità, anche in qualche maniera organizzata, diciamocelo pure, c'è però un carnario enorme, una concentrazione enorme di persone che inevitabilmente crea rumori schiamazzi e quindi non consente il dormire. L'iniziativa del Comune qual è? In primo luogo, anche in questo caso quando ci sono degli eccessi, sanzionarli. Abbiamo dato vita a ordinanze, a delibere, che fanno sì che, per esempio per motivi di sicurezza, ma anche per frenare la vendita degli alcolici, a una certa ora non si possa più vendere gli alcolici o comunque usare il vetro, comunque usare il metallo anche per motivi di sicurezza. E poi soprattutto abbiamo ragionato in aree alternative, che possono essere per esempio i Murazzi, il Valentino, gli Alemai accanto al campus universitario, per alleggerire proprio questa movida, che in talunni casi diventa mala movida, in una logica sempre concordata con gli esercenti, con i residenti, tutto laddove è stato possibile. Ecco, visto che lei ha proprio introdotto queste aree, che sono notoriamente aree a cui i torinesi, ma non solo, sono molto affezionati dal punto di vista proprio della socialità, dell'intrattenimento, quindi io penso ai Murazzi, al Parco del Valentino, con locali anche storici, che attualmente non sono più aperti, non sono più fruibili al pubblico. Che cosa state facendo, come si possono ripensare queste aree? Allora, in alcuni casi sono stati messi a bando questi locali che sono proprietà del comune, Legasi per esempio Morazzi, altre realtà per esempio insistenti nell'area del Valentino, ne cito una per tutte che se Dio vorrà tra breve potrà riaprire, che è la rotonda, proprio quella accanto a Torino Esposizioni, un'area che diventerà molto caratterizzata anche da universitari, perché non dimentichiamo che Torino Esposizioni di Corso Massimo d'Azeglio diventerà una importante biblioteca civica centrale di fatto, con un progetto bellissimo che vedrà concentrarsi lì tanti studenti, tanti cittadini per carità e quindi dobbiamo offrire dei servizi, cogliamo l'occasione proprio per rendere anche quella parte del Valentino e dei Murazzi più piacevole, il mio assessorato per esempio si è già accinto, cioè si accingerà anche nei prossimi giorni a rilasciare delle autorizzazioni per somministrazione, quindi è un segnale molto forte che più imprenditori che hanno avuto l'assegnazione dei locali comincino a lavorare sul locale medesimo e quindi tra breve, nel periodo ancora primaverile, se Dio vorrà, quindi entro il 21 giugno, si potrà vedere riaperti tanti di queste location importanti, come diceva lei, per la città che sono delle vere e proprie icone, soprattutto quelle muraziane. Ecco, tornando ad occuparci un po' nel dettaglio del commercio, parliamo dei mercati e di un mercato in particolare che anche questo è davvero iconico per la città di Torino, il mercato di Porta Palazzo. Ovviamente quando si parla di Porta Palazzo, anche in questo caso, c'è la fruibilità di un mercato con delle varietà davvero incredibili, anche prezzi davvero concorrenziali, dall'altra parte anche il problema della sicurezza. sono due aspetti che vanno sempre insieme, soprattutto in un'area mercatale così ampia, così frequentata. Parliamo un po' di questa realtà, che cosa si sta facendo anche per valorizzarlo ulteriormente? Realtà importante che rappresenta anche una multicultura, una multietnicità, in un contesto per molti versi meraviglioso, interessantissimo, stimolante, i colori, i profumi, sicuramente sì, e appunto l'unione anche di più razze. Il tutto va contemperato anche in questo caso in giusto ordine, una giusta possibilità di espressione da parte di chi porta anche delle culture interessanti sotto questo profilo, e che ha saputo ben integrarsi, che hanno avuto una sorta di inclusione ovviamente positiva nel nostro contesto. Il porta palazzo commercialmente conta moltissimo, il più grande mercato a cielo aperto, oltre 750 stalli intesi come potenziali bancarelle, poi mediamente l'occupazione sulle 550, che è un gran numero, giungono dalla Francia, dall'estero, per vederlo e per acquistare. Quindi ottimo rapporto qualità-prezzo, perché non dimentichiamo che Torino, come diceva lei, è la città dei mercati, 33 mercati attivi, operativi, che danno il maggior rapporto qualità-prezzo a livello, è migliore, a livello italiano, ed è riconosciuto da tutti. C'è un progetto di riqualificazione del tessuto commerciale e proprio territoriale, quindi una rigenerazione nel vero senso della parola, che passerà attraverso addirittura 2 milioni e 500 mila euro del fondo Pinqua, un fondo che consentirà anche per il mercato per esempio di Corso Racconigi di avere un milione e mezzo, quindi totale 4 milioni. Stiamo lavorandoci parecchio, cerchiamo di riattivare il mercato ittico, che per una serie di ragioni è stato chiuso, ex brutto, proprio non si poteva che fare così, dovrebbe ripartire, quindi ridare fiato ad un portapalazzo che vedrà anche bancarelle nuove, per cui noi interverremo l'80% per favorirne la struttura e anche il colore e dal punto di vista anche dei tendoni di copertura, quindi è una cosa bellissima che prossimamente appliceremo su portapalazzo. Tornando invece a quello che è il tessuto commerciale all'interno della città, quindi negozi, attività commerciali, spesso si sente parlare di affitti, ovviamente la questione degli affitti, che immagino con l'aumento dei prezzi delle bollette sia ancora un problema maggiormente da affrontare e del problema desertificazione della città di Torino. Voi lo percepite, effettivamente i dati dicono questo, che cosa si può fare? Assolutamente sì e tocca ormai tutti i territori cittadini in maniera diffusa. Prima era più caratterizzante l'area periferica ed è maggiormente grave in quel caso lì la situazione perché ci sono delle aree che rischiano di essere lasciate in mano alla delinquenza. E poi senza contare che il negozio vuol dire luce, vuol dire anche lì presidio del territorio in termini di sicurezza. Chiaro punto di riferimento. È chiaro che la grande distribuzione ha inciso moltissimo sul fatto che tante serande siano state abbassate. Il calo dei consumi derivante dal fatto che una città di quasi un milione e 300 mila abitanti è scesa a poco più di 800 mila abitanti. Quindi sono tutti aspetti che incidono. E quanto dicevamo prima, l'effetto pandemico, l'effetto economico mondiale complessivo. Noi cerchiamo di dare un'attività, stimolare un'attività promozionale onestamente come comune, come città. Possiamo fare intanto sicuramente delle moral suasion agli uni e agli altri. Mi riferisco a chi affitta i locali e che in molti casi li lascia piuttosto, a seranda abbassata, chiusi, non affittati, piuttosto di abbassare anche i prezzi. Allora noi lì abbiamo due possibilità. O incentivare il proprietario, è la cosa migliore, del tutto evidente, ad affittare questi locali. Quindi creare un'economia che diventa stimolante, ossigenante per tutta la comunità torinese e salva tante famiglie, tanti posti di lavoro, oppure incidere, se è del caso, quando vediamo che per anni e anni e anni costantemente non avviene questa messa a disposizione dei locali, di incidere sull'aspetto tributario. Ahimè, noi preferiamo sicuramente la prima soluzione. Le attività promozionali sono quelle delle feste di via, cercare di vedere se potremo adesso con il POM MetroPlus, che è un fondo che ci è stato dato e consentito di distribuire un 4 milioni 700 mila euro sulla città, un milione mirati decisamente proprio soltanto per il commercio, sperabilmente, vedremo di impostarla così, sui piccoli negozi di vicinato e in più usando lo strumento del DUC, che è il distretto urbano del commercio, che ci consente di operare in chiave promozionale e di sostegno per quanto è possibile per questi negozi di vicinato. Abbiamo dei dati che riguardano il turismo, lei accennava prima, molto confortanti, si parla di turismo che è tornato ai livelli prepandemici per quanto riguarda il nostro Piemonte, ovviamente Torino può solo godere positivamente di questi dati. Gli eventi, diceva lei, sono fondamentali da questo punto di vista commercio ed eventi vanno insieme, perché quando si organizza un evento si muove pubblico, si muove gente che ha bisogno di servizi, che vuole trovare il negozio aperto, il ristorante, le attività. Da questo punto di vista la città di Torino e i commercianti sono disponibili, permeabili. Hanno una mentalità aperta a questa nuova funzione e anche il nuovo ruolo della città centrale in questi eventi turistici? Nel corso degli incontri che noi abbiamo avuto e sono molti con le associazioni di categoria che rappresentano il mondo del commercio, Ascom, Confesarcenti, Epat, Fiepet, che sono gli esercenti pubblici e quelli che gestiscono i bar, i ristoranti, per intenderci, c'è ormai una mentalità che si è consolidata di grande disponibilità e di, voglio dire, apertura a questo nuovo turismo avanzante, a questa onda lunga che noi cerchiamo di consolidare. Una Torino che è stata riscoperta grazie alle ATP Finals, cioè al tennis, e grazie all'Eurovision sono contest, due eventi che sono stati determinanti per la nostra città, ma non solo quelli. Quindi una città che viene letteralmente scoperta, quanti turisti ci scrivono oppure ci confidano quando tornano una seconda volta e dire ma noi non pensavamo di trovare una bella città così, perché veniva vista un po' come città dormitorio, città della Fiat con tutti gli aspetti positivi e negativi, una città eventualmente grigia, considerata non interessante. Invece no, l'interesse dal punto di vista culturale, artistico, architettonico di questi eventi che ormai sono un florileggio, nel vero senso della parola, è la riscoperta soprattutto del settore enogastronomico con almeno 5-6 saloni del vino in generale o comunque eventi che focalizzano la parte gastronomica e la parte enologica importanti e che saranno un motivo di orgoglio per la nostra città nella sinergia con le migliori realtà piemontesi, legacy Roero, Lanca, Monferrato, la zona dell'Ovadese, la zona più in là verso il Lago Maggiore, i vini nostri dell'Erbaluce di Caluso e zone limitrofe, il Freisa, abbiamo veramente anche in questo caso un'opportunità enorme da sottoporre al turista, al cittadino che viene anche soltanto turista, intendo dire sia straniero che italiano e poi non dimentichiamo i nostri dolci, il cioccolato, la cioccolato torinese, il top. E allora dobbiamo aspettarci ancora nuovi eventi in calendario per il prossimo futuro? Sicuramente sì, proprio finalizzati a questo. Il primo importante sarà il salone del vino, uno appena terminato e Grandi Langhe, proprio con dei vini di grande qualità, aziende di primaria importanza, molte ma non soltanto, voglio dire, di quelle grandi conosciute mondialmente, ma anche quelle aziende spesse volte gestite e lanciate da giovani che stanno crescendo sempre di più e che quindi prendono piede, quindi ce n'è per tutti in maniera trasversale. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo nostro approfondimento, quindi io rinnovo attraverso le sue parole l'invito a tutti i telespettatori che ci staranno seguendo da casa a visitare la città di Torino, a coglierne gli aspetti spesso anche inconsueti, devo dire che sono tante le occasioni e le offerte che vengono date appunto per visitare la città anche da punti di vista a volte particolari. Io ringrazio davvero Paolo Chiavarino, assessore al commercio e mercati della città di Torino, grazie. Grazie a lei, ancora un saluto alle telespettatrici e ai telespettatori, grazie per l'attenzione. E io saluto i telespettatori, vi do l'appuntamento a domani con una nuova puntata di Prima News Focus. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.